Buon pomeriggio, bentrovate, bentrovati. Oggi parliamo di preferiti, di quei prodottini che mi hanno accompagnato in questo febbraio. Vi parlo di loro, abbiamo detto abbondantemente di questi color lip butter della CN. La colorazione che indosso oggi è l'11, questo bellissimo bordeaux con finish metallico. Questo è come sulla mia pelle e questo è come sulle mie labbra. Vedete che altera un pochino, ma vi devo dire che mi sono trovata benissimo. Ho sentito anche Peonia Blue, a cui mando un bacio e saluto. Io arrivo tardi a volte a commentare e a visionare i video di molti, però sapete com'è la mia filosofia? Arrivo tardi a mo' di tartaruga, però di solito quando io guardo i video li guardo dall'inizio fino alla fine e devo trovare proprio il momento per dedicarmi a voi. Se è un video da 50 minuti necessariamente devo trovare quei 50 minuti per seguire il filo del discorso. Non sono una che manda avanti, che velocizza, non sono neanche una di quelle che lascia i messaggi, ma per l'amore del cielo non è una critica, però il pulicino, oppure mi metto all'ascolto che vuol dire tutto e non vuol dire niente, oppure no, almeno non è il mio modo. Se commento è perché sto seguendo il filo del discorso, do la mia opinione, do anche credo un po' di soddisfazione a chi ha perso del tempo a registrare un video e non ha parlato in vano per un'ora. Ecco fondamentalmente questo. Ritornando a noi, allora l'11 è il Lip Butter che indosso, l'altro colore che più ho utilizzato è il 7 che tende ad essere un po' più acceso, quasi una nota più rossa. Vedete? Davanti alla luce si vede proprio la differenza. Questi stanno esattamente dove li avete posizionati, sono praticissimi perché io li butto in borsa, con tanto di specchietto vado a sistemare il trucco, fantastica resa, fantastica durata, non fa patina, rimangono lì e vi dico io ho la prova chiacchiera in ufficio dove parlo incessantemente o con le colleghe o comunque con i clienti o comunque al telefono. C'è il rischio che il rossetto si sposti, vada sui denti, una performance eccellente per 1,79 euro di prodotto. Vi volevo parlare di due prodotti che avevo acquistato da Sephora, sempre nei kit che danno la possibilità effettivamente di testare il prodotto e poi eventualmente di comprare la full size. Io ho preso questa Lip Sleeping Mask di Laneige. Allora a me tendenzialmente non piace prelevare con il dito il prodotto, soprattutto per le labbra, e poi posizionarlo sulla bocca. È un limite mio. So che la full size è dotata di una spatolina che vi aiuta a posizionare questa maschera per le labbra proprio dove dovete andare a effettuare questo trattamento. una maschera da notte per le labbra che io do proprio prima di andare a letto come ultimo step e devo dire che in questi giorni dove sto introducendo nella mia skin care routine serale dei prodotti che temo mi abbiano seccato notevolmente, proprio alterato il pH e di questa cosa non sono tanto contenta. Ho introdotto la linea di Now Bay e su di me ha creato una secchezza proprio nella zona delle gote e nella zona del contorno labbra. Ho introdotto la mousse e la lozione, la mist, proprio le labbra secchissime, screpolate, come se avessi attraversato il polo nord e avessi proprio le labbra, come quando si va a sciare che vengono proprio martoriate dal gelo e dalla velocità magari del appunto con cui sciate, il vento che vi sferza le labbra. Ho dato lei e lì in quel momento ho visto la meraviglia di questo prodotto. Mi ha proprio rimpolpato, ripristinato, riequilibrato tutta la zona stressata, inaridita e al mattino non ho più notato quella secchezza, quell'arsura, quello screpolamento che mal tolleravo. Quindi un buon prodotto che sto comunque utilizzando proprio come step serale e ve lo consiglio. Un altro prodotto di Laneige molto valido, anche se per quanto mi riguarda questa texture è più adatta nel periodo estivo, primaverile. La maschera da notte, una maschera idratante, la Water Sleeping Mask. Lo dice la parola stessa è una maschera che voi date al posto della crema prima di andare a letto e la tenete tutta la notte. Vi dicevo della zona inaridita nelle gote, anche visibile, non era solo una sensazione, avevo delle zone, delle gote più inaridite. Ho dato lei per un paio di sere e la mia pelle ha ritrovato lo splendore iniziale. È come se questa maschera avesse dato acqua alla mia pelle, che infatti era secca. Ha ripristinato tutto quello che mi mancava. Ha supplito, è intervenuta e ha impolpato la zona, me l'ha proprio nutrita, ricreando quindi anche quella compattezza che non sentivo più e sentivo invece la zona molto secca, screpolata. Quindi sono due ottimi prodotti che ho proprio apprezzato in un momento di difficoltà della mia pelle. Un altro prodotto che mi ha aiutato tanto perché ovviamente in quelle giornate in cui ho captato questa secchezza sono andata ad intervenire proprio con delle maschere che mi ripristinassero quella sensazione di freschezza, di benessere che mi ripristinassero. È proprio questa maschera della The Body Shop alla British Rose. È una maschera rimpolpante che davo al mattino. Profumo meraviglioso. È infinita questa maschera. Acquistata quest'estate e ne ho utilizzata varie volte. Non sembra, ma l'ho utilizzata spesso, sembra un decotto, vedete, gelificato, un profumo di petali di rosa macerata meraviglioso. Voi la posizionate proprio sulla vostra pelle e a parte l'immediata freschezza di questa texture acquosa durante la posa, che può variare, io la tengo fino a quando non sento più quella sensazione di freschezza. È come se la mia pelle si bevesse pian piano tutta questa maschera. A parte il profumo paradisiaco di rose, proprio un profumo di rose sembra di attraversare un rosetto. È fantastica. Questa l'avevo vista da Sara Cosmesi. Ciao Sara, ti saluto. Ma mi ha detto Fiore che anche Giulia Cova l'aveva menzionata tra le migliori maschere in assoluto. Mi ha dato risultati. In un momento di stress della mia pelle, in cui ne avevo necessità, sono riuscita a riequilibrare il mio pH, a ripristinare quel tessuto compatto che non avevo più. Era molto disidratato. Lei ha proprio rimpolpato e riequilibrato il tutto. Ottimo prodotto. Lo seguo con due prodotti per il corpo, perché anche se è inverno comunque mi lavo e anche frequentemente. Questa felce azzurra bio, mandorla e cocco, è un doccia gel. Dice 98,8% di ingredienti di origine naturale. Non ha sless, non ha petrolati, non ha alcol, non siliconi, no EDTA. Allora, al secondo posto ha il succo di aloe, ha poi il cocco, estratti di cocco, estratti di mandorla dolce, ma è buonissimo. A parte è un gel trasparente. Io pensavo fosse cremoso e invece... il gel è questo. Io pensavo, leggendo mandorla e cocco, che fosse un gel biancastro, lattiginoso, cremoso e invece è questo. Praticamente, ora mi vado a lavare le mani, è trasparente, ma è una coccola, è un profumo, è un profumo adatto per l'inverno, perché solitamente il cocco lo si limita al periodo estivo, proprio perché lo si associa a spiagge caraibiche e via dicendo. E invece qui è smorzato dalla dolcezza della mandorla, ma della mandorla dolce, proprio come la profumazione dell'olio di mandorla dolce di Sien, ha questa combo, insomma questa mescolanza di profumazioni che me l'ha fatto adorare. Sono praticamente arrivata qui, ne ho pochissimo, è veramente ottimo. Se vi capita, consigliatissimo. Se questo l'ho amato in fase di doccia, vi devo dire che questo è stato un amato per i bagni. Questo l'ho acquistato da Cop, Ipercop, ve l'ho fatto vedere una sera durante le stories di Instagram. È un bagno schiuma rilassante con olio essenziale di lavanda ed estratto di mirra. Puro relax, totale benessere. Allora, confezione bianca, questo latte, questa cremosità che si vede nel pack, mi ha fatto subito pensare ad un bagno crema e invece no. Anche qui, adesso rifaccio altri disastri, è un, vedete, un gel viola, eccolo qua, che profuma di lavanda. fantastico. Qui sembra veramente di essere in una spa, perché non solo la lavanda che ha questa profumazione aromatica, ma c'è anche la presenza della mirra. Infatti anche nella lista degli ingredienti c'è l'olio di lavanda insieme agli estratti di resina di mirra. È una profumazione piacevolissima. Ovviamente sono 500 ml di prodotto e anche di questo sono arrivata qua. Insomma, metà se n'è andata. È sicuramente un prodotto invernale perché i bagni sono per lo più invernali, soprattutto quelli caldi dove buttate sali, dove gettate oli, essenze. Questa tipologia di prodotto aumenta proprio il relax e vi dà questa sensazione totale di benessere. Proprio per un bagno rilassante, quando a fine settimana dovete proprio scrollarvi da dosso tutto lo stress di una settimana impegnativa, utilizzate lui e resuscitate. Ottimo prodotto, ve lo consiglio. Un altro prodotto che vi voglio segnalare è questo labello, questo scrub alla rosa canina, che ovviamente io ho visto da fiore. Ciao fiore. Anche il pack è così zigrinato, sembra uno scrub in rilievo. Eccolo qua. È rosa, ma all'interno ha proprio dello zucchero, credo. Profumazione buonissima. Io lo do la sera, mentre faccio tutta la detersione, do lui in modo tale che abbia la possibilità di agire, poi alla fine do magari un burro o come vi ho fatto vedere prima, do lei se ho necessità di andare a integrare, a supplire, proprio a intervenire con delle texture molto più nutrienti. È stato riformulato, quindi non ha le schifezze che solitamente labello aveva. Al secondo posto ha l'olio di ricino. C'è l'ianthus, praticamente il girasole, parla infatti di ingredienti di origine naturale senza oli minerali e sapete che solitamente labello aveva oli minerali. Ha olio di rosa canina e vitamina E. Un buon prodotto, quindi anche questo ve lo consiglio perché è importante anche scrabbare le labbra che così potranno accogliere al meglio anche texture cremosi l'indomani. Un prodotto che mi aveva sempre omaggiato fiore è questo uscito in edizione limitata natalizia di Yves Rocher. Di questa linea ha i primi fiocchi di neve che in teoria è a base di mandorle dolci e ho capito che mi piacciono le mandorle dolci. Questo è un burro labbra meraviglioso. Non sembra ma ne ho utilizzato parecchio. Me lo lascio proprio per la sera, proprio come coccola. A parte la profumazione meravigliosa, è la stessa anche della crema a mani che purtroppo ho finito e so che c'era anche il bagno crema. Io ne ho una mini taglia rilassante, delicata perché proprio con queste mandorle dolci ma tenere, è proprio il fiore delle mandorle dolci perché le mandorle hanno una profumazione diversa. Anche la pasta di mandorle mi viene in mente. Qui invece sono i fiori delle mandorle dolci che è tutta un'altra fragranza. È la stessa dell'olio di mandorle dolci di Lidl che vi menziono sempre, tutta la linea. Se amate la profumazione della linea rosa di Sien al mandorlo, la profumazione di questa linea è la stessa che ritrovate in questo prodotto che vi dicevo. Una cosa simile la ritrovate qua, la ritrovate qua, insomma si accomunano, hanno questo comune denominatore, sono fantastiche. È un prodotto buonissimo, a differenza di tutti gli altri burri per le labbra, idrata, nutre, è piacevolissimo, non appiccica, si sente che penetra, che interviene. Mi piace tanto, tanto, tanto questo prodottino di Yves Rocher. Termino con un correttore che mi sta piacendo tanto, lo indosso anche ora, me l'ha mandato la mia amica Betty82, a cui mando un bacio, mi ha mandato questo correttore di Astra che mi piace tantissimo perché ha la presenza dell'SPF 15, è un correttore lunga durata, alta coprenza. Elisabetta, perché lei è la mia omonima, mi ha mandato lo 03 che è esattamente il mio colore. È questo, vedete? Si fonde praticamente con il mio incarnato. Io lo do al mattino, lo vado proprio a picchiettare e secondo me è un correttore adattissimo per le over perché non segna, copre ma vi tiene comunque idratata la zona, non segna, non vi fa vedere le pieghette, le piccole rughette che ci sono magari anche nella zona sottostante alla palpebra inferiore, non segna troppo, ci sono a volte i correttori come quello di Nabla. Vedete bene che è come se io non lo indossassi, anche occhio nudo non si vede, si amalgama al vostro incarnato. Vado a stendere con il polpastrello, eventualmente lo rimassaggio con una beauty blender, poi do una spolverata di cipria bianca illuminante come quelle di Guerlain, le Meteorit, quelle ciprie impalpabili e tutto si setta e per me va più che bene, resiste tutta la giornata, me la vado poi a struccare tutta la zona la sera e quando mi strucco vedo che c'era il correttore perché poi soprattutto la sera emerge magari anche l'occhio stanco e l'occhiaia segnata. Quindi questo è un prodotto validissimo, dice di durare 12 ore e direi che ci siamo perché sì, io lo porto da mattina a sera, è un ottimo prodotto e Astra sta lavorando molto bene. Ringrazio Betty82, Elisabetta per avermelo mandato, ma vi dicevo lei è una makeup artist, anche a distanza ha capito la tipologia di prodotto che faceva il caso mio, sa esattamente che tipo di prodotto è più consono e ha proprio preso in pieno colore, texture, è lui il mio correttore della vita insieme al Maybelline che rimane sempre il cancella età, un mai più senza. Io vi ringrazio per essere state qui in mia compagnia anche oggi, ormai vi stress tutti i giorni, noi ci vediamo domani, ciao!